È migliorato molto dal punto di vista della recitazione cinematografica, Jaime, devo dire. Cioè questo sketch è veramente ben fatto, non so se è ripreso da qualche film come quelli precedenti, comunque un bel trailer. Ecco, non so musicalmente cosa aspettarmi con Jaime, però devo dire che i presupposti ci sono, la curiosità è salita. È bella per Jaime che, insomma, è pronto a uscire con Jimi Hendrix 2020 fuori il 6 agosto, mi pare. E che cosa c'è da dire? Jaime mi ricordo quando uscì con Prima Scelta, l'EP per Universal, che fu la sua prima scelta, lui che doveva capire bene come muoversi, lasciò la scuola tanto giovane, poi il successo nel web, tante etichette che arrivano, si vociferava Unlimit Strangle, e poi alla fine sceglie la major. La major che ti caga solo se fai numeri. E Prima Scelta fu un disco che a me piacque moltissimo, me lo pompavo a pressione. Dopo quel disco che fu, da un punto di vista discografico, per quello che era i tempi, considerato magari un flop dalla Universal, ma non lo era affatto, sia artisticamente, sia anche a livello di numeri, non è che non ha affatto i milioni, oggi magari li ha fatti, non lo so, però ai tempi, però comunque c'era qualità. E il buon Jaime ha fatto giusto un po' di singoli, non ha mai fatto poi il disco per Universal, ecco questo. E c'è stato un momento in cui pensavamo che Jaime sarebbe finito, io tra amici si parlava, minchia, Jaime, adesso... E iniziò con i primi Jimi Hendrix, che a me personalmente non convincevano, devo essere sincero. Tanto che appunto, ripeto, ci guardammo e diciamo, minchia, Jaime non è più quello di una volta, non è più quello di Prima Scelta, sta sperimentando un qualcosa, ma sembra che stia correndo dietro, un po' come l'Azza a quei tempi, poi l'Azza ha fatto un super successone. Chissà, perché a Jaime comunque gli auguri il meglio, è di Pescara, l'ho anche conosciuto personalmente con Peppe Socks e Capoplaza nel 2015. E poi che successe? Che a un certo punto, singolo dopo singolo, ne fece un paio della Madonna, è iniziato a girare Spotify, Spotify, sempre più solo Spotify, e adesso Jaime ha una fanbase su Spotify pazzesca, roba di milioni di ascoltatori mensili. Poi ci sono stati vari featuring, quello con Capoplaza, Fiori, molto bella, una delle pochissime canzoni di Capoplaza che mi piacciono, ovviamente c'è la direzione artistica di Jaime. Capoplaza l'ha sempre stimato a Jaime, molto, ve lo dico, prima del successo ce ne parlai, però oggi non ci parlo più con Capoplaza, insomma è stato un qualche giorno che è venuto a casa mia perché facevo eventi, e parlavamo appunto di Jaime, l'ho sempre stimato molto, infatti vedere il featuring lì mi fece piacere, e Fiori spacca, ecco. Tutto questo discorso per dire che il buon Jaime, quello di Disney Channel, lui faceva una sitcom quando era ragazzino, insomma per dire che Jaime comunque ci si può aspettare tanto adesso, sia da un punto di vista degli ascolti, sia da un punto di vista della qualità, perché adesso si può permettere di fare un po' di tutto, è rinato, ha avuto il suo, ovviamente c'è sempre il pericolo di cadere, però io spero che Jaime ci offra quella qualità che comunque può garantire, perché ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha la grande. E quindi niente, bella per Jaime, insomma il 6 agosto è fuori, Jimi Hendrix 2020 riparte la saga, e speriamo che insomma sia un prodotto di qualità, che comunque gli consenta di aumentare la sua fanbase, di fare ascolti, perché Jaime è uno di quegli artisti che ho a cuore, che mi hanno accompagnato col tempo, perché ha scritto un sacco di brani bellissimi, che mi hanno fatto emozionare, ecco. Bella Jaime. Grazie a tutti.